Torna il Brodetto Fest di Fano il 10, 11 e 12 settembre a Sapore ai Cooking Show di Alberto Faccani, Silvia Baracchi, Michelangelo Mammoliti e Approfondisci con il Talk Show di Federico Quaranta, Marino Bartoletti, Roberta Capua e Tinto. Divertiti con Brodetto e Kids e scopri il nuovo spazio Meet Moretta. Brodetto Fest 10, 11, 12 settembre a Fano. Info su brodettofest.it